Dopo tutte queste azioni i tedeschi non potevano più sopportare pensare di lasciarci fare, insomma, no? E si vede che avevano notizie al comando che ci sarebbe stato un rastrellamento che poi è avvenuto. E allora venne Paterlini e dice bisogna trovare degli arnesi che buttiamo giù il ponte per evitare poi quando arrivavano i camion che passassero. Allora siamo andati lì con Caretti. C'era uno, un dipendente dell'Edison, che era la società elettrica lì, che avevano una cava e perciò avevano anche il tritolo, le mine, insomma, la polvere. E loro abbiamo fatto le buche e poi dopo abbiamo fatto saltare un'arcata grossa, un ponte che è grosso quello di Cinque Cerri, un ponte grandissimo. E poi siamo andati su e da quel giorno lì sono stato in battaglia, insomma, no? Andiamo al comando alla Magolese, la Magolese che è sul Cusna. Lì c'era il comando, lì c'era Marconi, Pasquale, un professore di Castelnuovo, Monti, democristiano, cattolico comunque, ecco. Poi c'era Eros, c'era Miro, c'era un medico, ebreo che era slavo, mi dissero che era iogoslavo. E abbiamo fatto un po' di giorni lì, che era una specie di reclutamento. Però le armi erano poche, aspettavano dei lanci dal cielo, degli atti che non venivano. E allora ci rimandarono a Ligonchio, in quattro. Ci siamo venuti a Ligonchio e lì c'era proprio un'infinità di partigiani e purtroppo non tutti armati, perché proprio era più forte l'affluenza dei partigiani, dei giovani che volevano combattere, volevano essere reclutati, che la quantità di armi che venivano gettate dal cielo ho preso dagli attacchi ai presidi tedeschi. Ecco. Io fortunatamente, sono stato fortunato più di altri, mi diedero un mitra inglese, uno stenne, mitra non lungo. Però funzionava, anche perché si poteva smontare in tre pezzi, nasconderlo, che poi si faceva presto rimontarlo e così via. E una rivoltella beretta calibro 9 e quattro bombe a mano. Ecco. Dopodiché sono stato lì col primo battaglione battaglione e si andava sulla statale 63, lì c'erano già tutti i presidi tedeschi e poi avviene proprio dopo non molto, verso il luglio, avviene il grande rastrellamento. Ci fu l'attacco della Göring, che ci fu una resistenza per un paio di giorni, un giorno e mezzo, due giorni, e poi alla fine ci fu lo sbandamento, perché una divisione tedesca, anche abbastanza corazzata, con autoblindo, artiglieria, piccoli aerei, truppe specializzate, diventa difficile resistere a un attacco di questo genere. Poi forse, ripensandoci adesso, non era neanche giusto resistere a quella maniera lì, perché guerriglie voleva dire attaccarli, scappare, attaccarli, scappare, tornare, insomma, ecco. Invece si era voluto quella volta lì fare un fronte e poi l'abbiamo anche pagata, perché ci furono molti morti, qualche disperso, poi portarono via più di mille uomini, i tedeschi, tutti quelli che catturavano, che erano in condizione di poter lavorare, li portarono in Germania e anche, credo solo un paio di donne, ma un migliaio di uomini li hanno portati via. E perciò lì ci fu lo sbandamento completo. E dopo i tedeschi sono partiti, sono partiti però la divisione si è ritirata, ma i presidi sulla Statale 63, come sempre, sono rimasti fino alla fine della guerra, insomma, ecco. E dopo pianino pianino si sono ricomposte le fila, però a fatica. Che mi ricordo che sono stato caso una decina di giorni e che ho aiutato anche mio padre a seminare il grano, proprio perché mio fratello invece era andato con Frigio, col Bedeschi e hanno fatto prima loro a rimettersi assieme. E paura, sono dei momenti in cui abbiamo avuto anche paura, sì. Però ti dirò che è proprio una paura, ho avuto più incoscienza che altro, perché quando ci ripenso si potevano fare tante cose in più, con meno fatica e con meno pericolo. Ho avuto paura una sera, perché non avevo mai sentito sparare questa mitralia tedesca, no? La Raganella la chiamavano, una mitralia che sparava moltissimo, molti proiettili. E proprio, credo che sia l'unica sera che proprio sentivo il cuore che saltava. Perché dopo ho capito che era lontana, però mi sembrava lì a pochi passi, insomma, no? Proprio questo rumore cattivo di notte, nel silenzio, insomma, no? E quella sera lì ho avuto un po' paura, per un po', insomma, ecco. Altrimenti grandi problemi non li ho proprio avuti. Grazie. Grazie. Grazie.